Il Biceglie Il Bicchiere è mezzo pieno, domenica era mezzo vuoto a Viterbo, ero molto deluso, oggi sono contento per questo percorso di crescita, certo il risultato sono più arrabbiato dei tifosi, sono più arrabbiato della società, dei miei ragazzi perché a me non mi piace perdere, però dobbiamo anche accettare la sconfitta, purtroppo è avvenuta con un gol, ripeto, di un difensore quando gli attaccanti di La Ternana quest'oggi non hanno mai tirato in porta. Fischi ingenerosi da parte del pubblico? Quando il pubblico fischia, applaude io accetto il verdetto loro, lo accetto, lavoreremo per quei fischi per farli diventare applausi, oggi abbiamo preso i fischi e li abbiamo meritati sul risultato perché non si doveva perdere, anche se loro sono la prima classifica, però accettiamo e dobbiamo tramutare quei fischi in energia positiva già a Catania e cercare di fare risultato per portare i punti alla nostra classifica che ci servono, ma soprattutto per farli diventare degli applausi quando ritorneremo a giocare in casa col Francavilla. È stata la partita di Ebago, la prima con lei in panchina, come l'ha visto? Ebago aveva giocato anche a Viterbo, però a Viterbo non era in condizione, oggi l'ho visto bene, ci dà forza, ci dà coraggio, un giocatore troppo importante, lo stiamo aspettando, lui è molto disponibile, un giocatore è un ragazzo, prima che il giocatore sto conoscendo l'uomo e quindi ci sta dando una grande mano, siamo una squadra giovanissima rispetto a tanti. Prossime due partite, Catania e Virtus Francavilla, cosa aspettarsi da questo Biceglie? E' Bari, il massimo impegno, dobbiamo lavorare, dobbiamo correre, dobbiamo impegnarci e dobbiamo cercare di fare quei gol importanti che servono. Grazie mille.